Sono Michela e faccio parte del team internazionale di Motedis. Motedis non si accontenta di offrire ai suoi clienti dei prodotti di qualità a prezzi estremamente competitivi. Ora vuole offrire un servizio ancora migliore ai suoi clienti italiani sulla sua pagina www.motedis.it e su una pagina Facebook dedicata. Vi aspettiamo numerosi online! Grazie a tutti!